Sono felice che questa squadra non abbia mollato fino alla fine perché sappiamo tutti gli inganni che può portare l'ultima partita, quindi siamo contenti, il mister ci aveva messo in guardia, ma soprattutto siamo molto felici per aver superato anche il record enesimo della Juve di Buffon, Nedved e del Piero. Era stato bene a dirlo perché noi non l'avevamo ancora detto e quindi siamo molto felici per questo record superato e nulla, adesso ci goderemo le vacanze. Fin dai primi giorni di ritiro il mister ha cercato di passarci secondo me la sua mentalità che aveva da giocatore, noi abbiamo cercato di apprendere anche perché sappiamo tutti la carriera che ha avuto il mister e secondo me sul campo stiamo esprimendo quello che lui esprimeva da giocatore, cioè la mentalità di una squadra che non molla mai e di una squadra che vuole sempre dimostrare e fare di più. Ora però abbiamo dimostrato per sei mesi che dobbiamo mantenerlo fino a giugno, fino a maggio-giugno perché anche se abbiamo un vantaggio così non vuol dire niente per noi ma dobbiamo mantenere la costanza dei risultati e continuare con questa lunghezza d'onda. L'Ascoli è una grande squadra davanti a degli interpreti veramente forti, però i primi 20 minuti hanno dominato loro, però dopo 20 minuti abbiamo iniziato ad alzare i ritmi, abbiamo fatto gol su pala inattiva con Tuglia e da lì siamo riusciti poi a mantenere la costanza di tenere il ritmo alto e di metterli sotto pressione e questo ci ha portato a una vittoria molto più ampia. Alla fine cambiano gli interpreti però diciamo che il risultato alla fine è quello perché abbiamo dei giocatori veramente forti e anche oggi per esempio hanno messo Luca, Antei e Terzino e questo non ha cambiato comunque il risultato finale e sono molto contento e volevo tra l'altro fare un grosso in bocca al lupo a Luca perché abbiamo saputo del suo grave infortunio e gli faccio un grosso in bocca al lupo per una pronta corrigione. Secondo me è più difficile giocare in una squadra di alta rasifica perché alla fine le parate è vero ne faccio poche, però mantenere la concentrazione, poi per un portiere sei sempre solo alla fine, mantenere la concentrazione è la cosa più difficile e soprattutto dove non fai le parate devi migliorare in altre cose come la gestione coi piedi, la gestione vocale nel chiamare comunque la squadra e sui cross e sulle parate, quindi diciamo che si colmano le parate con tutte queste altre cose che ti permettono di mantenere lucidità e concentrazione alta.